La parzelletta di Geppo Posto del blocco dei carabinieri Viene fermata una macchina con uno straniero a bordo Targa straniera A un certo punto il carabinieri si avvicina al finestrino Lo guarda e fa così Signore, lei ha commesso un'infrazione Purtroppo devo farle una multa E dice così mentre tiravo ricarte a penna, no? Piave e comincia a fa così Allora, lei come si chiama? Questo suorzio fa Cornelius Schwanderkoppenglockencicchimverboten Il carabinieri suorzio fa Bene, per questa volta può andare Ma faccia attenzione La speglia dei gladiatori La speglia dei gladiatori Dimensione suono Roma